è deceduto l'albergatore bellariese brutalmente aggredito due settimane fa da dei balordi nel suo hotel aigea marina le sue condizioni erano peggiorate negli ultimi giorni il progetto per il nuovo romeo nei ritarda l'amministrazione comunale di rimini e al lavoro per spostare la pista di atletica se ne è parlato nella presentazione del bilancio 2024 presentato l'osservatorio di genere della provincia di rimini si alza l'età media delle donne più presenti nel lavoro ma con una differenza salariale ancora evidente in catar portate pensieri di pace dal levescovo anselmi appassionato di motociclismo una lettera aperta ai due campioni riminesi della moto gp bastianini e bezzecchi buonasera e bentrovati all'appuntamento con l'informazione di icaro tg non ce l'ha purtroppo fatta ennio quadrelli 87 anni titolare delle tre stelle majestic albergatore picchiato e rapinato due settimane fa da due malviventi nel suo hotel sul lungomare di gea marina è deceduto oggi in ospedale e sarà l'autopsia a chiarire se e quale sia il nesso tra la morte e i colpi ricevuti le indagini sono affidate ai carabinieri bellariesi quadrelli si trovava davanti al suo hotel dove vive in inverno e che invece affida in gestione per la stagione estiva quando è stato bloccato alle spalle da due uomini col volto incappucciato che l'hanno costretto ad aprire la porta di ingresso all'interno è stato poi picchiato a più riprese uno dei malviventi gli avrebbe puntato contro una pistola mentre l'altro lo colpiva ripetutamente probabilmente volevano convincerlo ad aprire la cassaforte della quale però della quale però quadrelli non aveva la chiave alla fine sono fuggiti con circa 1000 euro in contanti prelevati dal suo portafoglio e sarebbe stato proprio l'ottantasettenne sotto sciocche sanguinante a chiamare il nipote che poi lo ha portato in pronto soccorso negli ultimi giorni le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate fino al decesso nella notte poco dopo le 4 c'è stato un incendio doloso alla bar diamond via della fiera angolo via eridano a rimini è stata sfondata la vetrata sul lato di via eridano che presentava un grosso buco sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e sigillato gli spazi in attesa del ripristino dell'agibilità sull'episodio indaga la polizia di stato l'atto criminoso sarebbe stato anche immortalato dalle videocamere dell'esercizio i danni sono significativi e i titolari non sanno ancora definire i tempi per la riapertura inizia l'iter che porterà al comune di rimini ad approvare il bilancio 2024 oggi sono stati presentati i capi saldi del documento dall'invarianza tributaria all welfare dall'aumento dell'imposta di soggiorno all'assunzione di nuovi vigili fino ai 90 milioni di investimenti previsti c'è però un timore quello legato ai tagli del governo un bilancio solido quello del comune di rimini così lo definisce l'assessore magrini presentando la proposta di manovra continua la riduzione del debito da oltre 73 a 54,7 milioni a fine 2024 inalterate le imposte con 59 mila riminesi la maggioranza che restano esenti dall'addizionale irpef nessuno ridimensionamento su welfare e scuola compresa la gratuità dei nidi che rappresentano il 40 per cento della spesa corrente confermate le agevolazioni alle imprese con la ex no tax area diventata sise in tema di lotta all'evasione che negli ultimi cinque anni ha portato al recupero di ben 54 milioni nel 2024 si prevede di far rientrare i mutari in posta di soggiorno per circa 8,6 milioni aumentano le tariffe dell'imposta di soggiorno con 3 milioni di risorse in più che portano il totale stimato a 12,5 milioni serviranno per promozione internazionale grandi eventi manutenzione del verde trasporto pubblico 13 invece i milioni da investire sulla sicurezza urbana con nuove telecamere e nuovi agenti noi abbiamo assunto all'inizio mandato 30 nuovi vigili e quest'anno col bilancio di previsione ne assumeremo altri 30 per una stagione quindi per sei mesi con un partame verticale preoccupano i tagli previsti dal governo legati in parte all'ipotizzata rimodulazione degli scaglioni di reddito Rimini stima 2,3 milioni in meno un taglio sui bilanci degli enti locali vuol dire soprattutto per i comuni più piccoli meno servizi noi riusciamo a garantirli tutti quindi non ci sarà nessun tipo di taglio di nessun servizio soprattutto per quello che riguarda e mi piace sottolineare i servizi delegati all'Uelfra quindi sono tutti garantiti però è chiaro che queste previsioni d'Italia non fanno mai piacere perché poi bisogna lavorare per andare a recuperarli diversamente 90 i milioni di investimenti tra questi i 600 mila per la manutenzione e la nuova illuminazione del ponte di Tiberio ma anche l'avvio del parcheggio interrato Marvelli a metà dicembre il TAR dovrebbe infatti esprimersi sul ricorso della seconda classificata nella gara poi i lavori che sarebbero dovuti partire ad ottobre potranno iniziare veramente per la realizzazione si stima un anno e mezzo ci sono poi gli interventi legati al PNRR, tre asili, lo stadium, il metromare, la piscina riserva ma anche il parco del mare e quelli realizzati direttamente dal comune la zona sud sarà quella che avrà un ruolo fondamentale nella sua riqualificazione il completamento per quanto riguarda il secondo tratto di via delle regine i lavori sul PSBO per una cifra che sfiora se non supera i 100 milioni di euro di investimento tra comune ed era la riqualificazione di piazza Toscanini e dall'altra per concludere una forte e grande valorizzazione dei parchi urbani via margine della presentazione del bilancio il sindaco ha anche aggiornato sul progetto per il nuovo stadio su un'opera strettamente correlata al futuro del Romeo Neri la pista di atletica i proponenti del progetto ci hanno chiesto un po' di tempo in più avevamo dato come limite ottobre per presentare questo progetto il limite l'avevamo messo proprio per dare il senso della volontà di voler chiudere questa partita è chiaro che non ci impicchiamo a una data se invece di ottobre sarà novembre o dicembre credo che potrà valerne la pena se si potrà arrivare appunto alla realizzazione del nuovo stadio noi abbiamo sempre parlato del piano A e piano B ovvero lo realizza il privato o lo realizza il comune per stralci in attesa di questo progetto che poi verrà attentamente valutato ovviamente per verificarne l'interesse pubblico noi abbiamo messo a bilancio delle risorse trasferite delle risorse che l'anno scorso erano previste per la tribuna Lato Riccione il rifacimento della copertura intanto per trasferirle ad un'opera che è altrettanto necessaria che lo stadio lo faccia il privato o che lo faccia il pubblico ed è lo spostamento della pista di atletica allora abbiamo messo 2 milioni e mezzo di euro di risorse proprio finalizzate allo spostamento della pista di atletica quindi a tutto l'iter necessario per arrivare all'acquisizione dell'area dove dovrà atterrare la pista e ai costi necessari per realizzarla quindi prosegue un percorso che necessita tempo io vorrei poter regalare ai miei concittadini lo stadio in poche settimane la nuova pista di atletica in poche settimane ci vuole tempo ma credo che il percorso intrapreso sia un percorso di serietà e trasparenza per arrivare all'obiettivo si complica ulteriormente il futuro delle spiagge la Commissione europea ha pubblicato un parere motivato contro l'Italia per violazione della direttiva servizi la Bolkenstein in merito alle concessioni balneari il parere fa seguito a una lettera di messa in mora in cui si concedono due mesi allo Stato per presentare le proprie osservazioni il senatore Marco Croati del 5 Stelle accusa il governo di immobilismo il presidente del Sib Rimini Riccardo Ripa parla di segnali contrastanti e della necessità di avere certezze e proprio ieri il tema delle concessioni è stato al centro della nostra trasmissione fuori dall'aula ospiti Ezio Filippucci presidente di Asso Balneari Emilia Romagna e Graziano Orbinati presidente di Feder Consumatori Rimini non è che gli imprenditori che ci sono oggi non possono concorrere ad essere gli imprenditori di domani non mi torna questo ragionamento nel senso che se mi pare oggi il primo ministro, il presidente del Consiglio Meloni dice l'unica condizione per la sensore sociale è il merito allora se è il merito bisogna che il merito che io lo trovo così anche abbastanza non condivisibile comunque se quella è la condizione e il merito bisogna che il merito sia per tutti non è che è solo per qualcuno a me sfugge questo qual è il problema? qual è la preoccupazione? il problema è che secondo me e il dottor Rubinati fa un po' di confusione telegrafico certo sul principio di liberismo perché noi siamo per il massimo liberismo ma in una società dove vige economia liberale l'unico che decide premia è il cliente, il consumatore quindi se lei preferisce le evidenze pubbliche lei toglie il potere al consumatore e lo dà all'accessore comunale secondo me non è il ruolo di Feder Consumatori il ruolo di Feder Consumatori è di dare importanza al consumatore ed è lui che decide se un'impresa è di successo oppure se deve chiudere e fallisce noi siamo fiduciosi che il governo Meloni porti avanti questa trattativa con la Commissione e possiamo dire che il governo Meloni a differenza degli ultimi governi che abbiamo avuto in Italia è un governo che prima fa le cose e poi le comunica credo che le posizioni che il governo sta assumendo non prendendo decisioni e cercando di dilatare con l'Europa i tempi porti a fare dei danni cioè porta i balneari a sbattere contro un muro oggi a Rimini è stato presentato l'osservatorio di genere 2023 realizzato dagli uffici statistica e politiche di genere pari opportunità della provincia l'osservatorio presenta un'analisi territoriale socio-demografica della donna del lavoro femminile e della sicurezza nel quadro demografico della provincia di Rimini per le donne si registra un aumento dell'età media e della componente anziana c'è una maggior concentrazione della componente femminile nella zona costiera e nelle fasce d'età più alte e alta resta anche la speranza di vita le centenarie sono molto più dei centenari aumentano le donne che vivono da sole o sole con i figli nei matrimoni aumenta l'età media e c'è il sorpasso dei riti civili rispetto a quelli religiosi aumentano le donne straniere residenti per il 19,4% sono ucraine seguite da rumene e albanesi la presenza femminile nel mondo del lavoro è buona rispetto alle medie nazionali ma con un ingresso tardivo rispetto agli uomini e una disparità salariale ancora evidente cresce l'imprenditoria femminile concentrata soprattutto in imprese individuali del commercio i numeri delle violenze denunciate restano alti le donne sono ben rappresentate nei gradi di istruzione elevati di meno nelle pubbliche amministrazioni le priorità sono quelle di creare delle politiche strutturali e non delle politiche legate solamente a una manovra ma delle politiche strutturali una delle politiche concrete che possono aiutare le famiglie un welfare che possa essere appunto a misura di donna la parità di genere è fondamentale per far crescere il pil del paese purtroppo a livello salariale ci sono ancora delle grossissime differenze e quest'anno nel 2021 abbiamo visto che il gap salariale è salito da 6.000 a 6.500 quindi in questo campo dobbiamo ancora lavorare noi come provincia stiamo lavorando con progetti e appunto abbiamo appena saputo che è un progetto con cofinanziamento regionale con il quale siamo arrivati secondi in regione e quindi nei prossimi mesi lavoreremo su questo progetto che è il lavoro libero di tutte 5.0 attiveremo dei corsi per le donne dei corsi di formazione dei corsi per il dirige al femminile e quindi cerchiamo di lavorare anche in questo campo Dopo la lettera a Vasco Rossi all'inizio dell'estate il Vescovo di Rimini Niccolò Anselmi scrive anche ai piloti riminesi della MotoGP Enea Bastianini e Marco Bezzecchi a pochi giorni dal GP del Qatar per chiedere loro di diventare ambasciatori di pace Da tifoso, da motociclista che ormai ammette girassoni in scutere da pastore della chiesa riminese Monsignor Niccolò Anselmi invita Marco Bezzecchi e Denea Bastianini a farsi ambasciatori di pace Caro Bezz, caro bestia, scrive il Vescovo le vostre recenti ed esaltante vittorie in MotoGP vi hanno conquistato la simpatia di moltissimi Fra pochi giorni si correrà il Gran Premio in Qatar un paese che si trova al centro di una zona molto calda del mondo ferita da laceranti guerre Yemen, Iraq, Siria, Israele, Palestina Vorrei chiedervi nella massima libertà di portare con voi i desideri di pace di tanti riminesi e non solo Fra il popolo israeliano e quello palestinese sta crescendo l'odio, terribile seme di quella divisione che porta alla disunione in tanti, nei prossimi giorni tra una prova e una gara ascolteranno con attenzione le vostre interviste sono certo che saprete comunicare atteggiamenti e parole di pace la comunità cristiana di Rimini è disponibile una volta terminata la guerra a Gaza, in quella martoriata regione ad aiutare gli orfani, le vedove gli sfollati, le persone rimaste senza più casa e lavoro Facciamo tutti quanti il tifo per voi conclude Monsignor Anselmi insieme sicuramente a Marco Simoncelli che vive nei nostri cuori e nella casa del padre anche lui figlio rombante della nostra terra Oggi ricorre la giornata mondiale del tumore al pancreas e questa sera alle 20.35 nella nostra trasmissione Tutta Salute si parlerà di tumore pancreas e gli 80 grammi che possono cambiarti la vita col dottor Marco Di Marco direttore di gastroenterologia endoscopia digestiva dell'ospedale infermi di Rimini Cinzia Mignogna una paziente alla quale ha comunicato la diagnosi di tumore al pancreas e Francesca Gabellini presidente dell'associazione di volontari oltre la ricerca che lavora per i pazienti e le famiglie colpite da questo tumore purtroppo sempre più frequente Io ricordo di aver chiesto al chirurgo il dottor Veneroni se si poteva guarire da questa malattia e lui mi ha risposto che si poteva curare per me quello è stato sufficiente lo dico con tanta emozione perché il rapporto umano che io ho riscontrato in questi medici e non solo nei medici ma veramente in tutto il personale medico ospedaliero dalle osse, l'infermiere, il primario, i medici tutti hanno fatto sì che io non mi sentissi mai una malata ma io mi sono sempre sentita una persona Io credo che sia fondamentale seguire i pazienti che hanno una familiarità Noi a Rimini, l'unità operativa complessa di gastroenterologia che ho la fortuna di dirigere è uno dei 29 centri in Italia che partecipa al registro sulla familiarità Noi ci occupiamo di seguire i familiari di persone sane che hanno almeno due familiari o di primo o di secondo grado affetti da tumore del pancreas e noi li seguiamo anno dopo anno facendo fare loro indagini tra cui la risonanza magnetica addome seguendo questi pazienti cerchiamo nel caso in cui fosse necessario di arrivare prima possibile ad individuare le lesioni preneoplastiche È nata nel 2012 a seguito della morte di Luca Signorotti che era mio marito all'età di 42 anni di tumore al pancreas che prima di lui aveva colpito al padre L'associazione è nata dal dolore dalla perdita e dalla voglia proprio di fare qualcosa di migliorare il sistema perché nel nostro caso abbiamo un po' sofferto questa mancata diagnosi tempestiva Nel 2023 speriamo a brevissimo il nostro grande progetto è quello di entrare in ospedale proprio con dei volontari attivi tra cui anche Cinze e altri volontari che si pongono a disposizione delle persone per dare la loro testimonianza e per dare aiuto un supporto e questo inizieremo a breve questo servizio in ospedale E questa sera alle 21.10 su Icaro TV torna a Tambur Battente il programma di Andrea Perini dagli studi dell'Antoniano di Bologna vediamo un'anticipazione Il nostro tu scrivi è stato un giro di giostra la giostra di un manipolo di idealisti che per uno scherzo del destino si trovano a sfidare le logiche del potere L'inno dell'amicizia Daniele che poi è diventato cioè l'amico è diventato l'inno dell'amicizia è vero e l'inno dell'amicizia è proprio un termine coniato da mai buongiorno l'inno dell'amicizia l'inno dell'amicizia senti i brividi lungo la schiena perché per forza una voce così non poteva non poteva lui capì subito che era un fenomeno beh si capisce tu dimmi quando quando dove sono i tuoi occhi e la tua bocca forse in Africa che importa tu dimmi quando quando siamo in conclusione vi ricordo la nostra piattaforma video Icaro Play e il nostro sito di informazione newsrimini.it grazie a tutti voi per averci seguito dalla redazione l'aguro di una buona serata grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.